Bentornati su Imperium Avventure, nuova avventura, avventura modello. Eh, no, in teoria dovrebbe essere la rivolta dei miliziani, ma qualcuno qua si è dimenticato di mettere il nome. Iniziamo subito. Finalmente siamo arrivati i guerrieri, i cartaginesi ci hanno sfidato, ora li assalteremo con i nostri guerrieri più forti. Eh! Perché? Perché? Livello 1000! Gabbo deve sovra... Caccia e cartaginesi. Ma che senso ha? Già livello 1000! Cioè, dai. Gabbo gli piace proprio cittare, eh, comunque. Cioè, boh, non lo so che cazzo ha nella mente. Se lui non mette unità a livello 1000 penso che rimane scontento, non lo so perché. Al di ciò? Ci siamo provati per il tuo ricordo e siamo pronti a difenderti. Che cazzo è? Conversazione negra! Ah, vedi che li perdo allora. Scudo un attimo. Gabbo... Caccia e cartaginesi dalla Spagna. Vedi che anche se sono a livello 1000 i miliziani fanno veramente schifo. Sono unità sacrificata. Ho capito, ma se io volessi unità, ragazzi, come dovrei fare io? E vuoi morire! Tre anni! Ok, mi serve un forte di reclutamento e io sono in gioco e così mi faccio i neri. Cioè, non sarebbe male come cosa. Però non so se c'è. Babbo! Hai messo qualche forte di reclutamento? Ehi, là, ti ho visto con la coda dell'occhio. Dipenderò il mio popolo dall'invasore. Farò ciò che... E qua veramente... Questi muoviono come niente, anche se sono a livello 1000, eh, comunque. Cioè, non vorrei dirtelo, ma sono scarsi. Cioè, muoviono e basta. Cioè, se la giocano con l'arciere gallico, eh, comunque, questi qua, eh. Cioè, dai, 14 di attacco, dai. Ma che cazzo hanno, scusa, le spade di legno? Non conquisteranno mai le nostre terre. Beh, anche l'eroe, 40 di attacco. E non è... Cioè, sono stati proprio generosi, eh, comunque. Oh! Minchia, l'elefante. L'elefante, prima che lo uccido, c'ha 3000 di vita. Ma, scusatemi. Tutte queste unità da dove cazzo arrivano? Cosa c'è? Un accampamento segreto, lì? Oh, ma che cazzo è? È arrivato Annibale! Oh! Eh, scusatemi. La porta dove sarebbe? Cioè, voi... Io penso che avranno dei nemici, Annibale. Cioè, dei nemici. Che cazzo dicono i nemici? Odio cane! Cioè, guarda, anche se sono a livello 1000, muoiono. Muoiono! Muoiono! Capito, ma la porta? Ve la siete mangiata? Mantenete la posizione! Guarda quanti elefanti che hanno qua! Allora, sfondiamo sta porta, vediamo che cosa hanno dentro. No! Ho sbagliato! Sono un coglione, dai! Li ho trasformati in contadini, invece di fare la catapulta. Sono proprio un coglione. Proviamo ad entrare dentro e vediamo. Non so neanche se hanno unità, questi. Porco Dio, quante unità che hanno. Oh, ce l'hai fatta ad arrivare! Ma noi non ci faremo con qui da facilmente. Alla carica! Grazie, eh! Per i contadini, eh! Sì, sì, certo, certo. Cioè, praticamente, dobbiamo cercare di arrivare là e attivare sempre tregua. Che così non ci attaccano. Cioè, che stronzata. Che stronzata. Perché sennò te li uccidono i miliziani. Per quello. Cioè, giù fa, non durano un cazzo, questi cazzo di miliziani. Cioè, guarda quante me ne fanno fuori con questi cazzo di elefanti. Cioè, in teoria hanno solo questi elefanti, adesso, eh. Però, oh, tolgono un sacco di vita. Tolgono un sacco di vita! Perché hanno danno espansivo e poi i bossi di Gena hanno questi stronzi. Solo con l'eroe riesco a farli fuori. Cioè, guarda, guarda, guarda quanti me ne hanno fatti fuori! Avevo 41 unità io! Dai! Me ne mancano solo tre! Ok, adesso questi qua dovrei farli fuori subito. Guarda che scappa pure! Guarda lì che scappano! Muori anche tu, stronzo! La città è nostra, abbiamo fatto valere la potenza dei miliziani, anche liberato la Spagna per lo sgozzo party. Gabbo, ma che cazzo di avventura è, porco Dio, ma che cazzo è? Attivo tregua tutto il tempo per arrivare a cercare di arrivare a sto cazzo di forte di merda? Per poi bestemmiare contro gli elefanti? Cioè, va bene, ogni avventura diventa sempre una bestemia comunque. Comunque questa avventura è bocciata, potrei fare di meglio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!